Tre dritte fondamentali da seguire per migliorare la tua manualità. Uno, non smettere mai di studiare e di dedicarti alla tua formazione. Anche se sei una massaggiatrice professionista riconosciuta, è molto importante che continui a studiare e migliorare le tue tecniche. In questo modo riuscirai ad assicurarti di poter fornire il miglior servizio possibile ai tuoi clienti. Due, chiedi al cliente se ha lesioni o zone più sensibili del suo corpo. In questo modo puoi sapere come trattare quella lesione o quanta tensione fare mentre massaggi quella area del suo corpo. Una tecnica mal eseguita può peggiorare la situazione e farà in modo che il cliente non torni più a farsi massaggiare da te. Tre, migliora sempre le tue tecniche ed esercitati con mani e piedi per portare più assertività nei tuoi protocolli.